Al via i salvi estivi, da oggi in Sicilia e dal 3 luglio in quasi tutta Italia, ultime a partire la Puglia il 24 luglio e la Basilicata il 2 agosto. Caccia all'affare per i consumatori e auspici di ripresa per i commercianti, che sperano una forte spinta al consumo dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro, pari a 74 euro pro capite, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. I consumatori del Codacons prevedono percentuali di sconto da subito altissime e vendite in crescita del 15-20% rispetto allo scorso anno, ma al di sotto dei valori pre-Covid. Dopo l'anno sorribilis, l'auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C'è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità, commenta Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio. Per questi saldi, spiega Borghi, ci aspettiamo consumo in crescita rispetto allo scorso anno, ma soprattutto una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web. Nonostante la voglia di ripresa è giusto ricordare che le regole per il contenimento dei contagi vanno sempre e comunque rispettate. È necessario misurare la temperatura e disinfettare le mani all'ingresso di ogni esercizio, rispettare la distanza di sicurezza dagli altri clienti e avere accessi contingentati nei vari locali, a seconda della loro capienza. Sarà comunque possibile provare i capi. In ultimo, ricordiamo che all'interno dei negozi è necessario indossare la mascherina. Grazie a tutti. Grazie a tutti.